Sani cari Veneti, come sia? In questo video qua parleremo solo di una questione che la gioca a massa dentro dei nostri survei, di un'altra cosa, una questione che parla di solito, che si è negata dalla gente, che si è negata una muccia di oltre sottoparetata, che la mette in dritto e si capisce, un po' così importante a sé. E che tutti i Veneti, e soprattutto in quel Veneto, gli dovrebbe sbattarsi a testa un centino in più per smarrarla meglio, e saranno in dritto invece idee che esistono belle, che sono montate, ma che le si sono ancora spuntate in su, ammarcatamente dalla mentalità di scuola istituzionalizzata italiana dantesca. Chiaramente siamo in dritto di scuola sulla lingua Veneta. Ovvio che il Veneto non si muove un diaetto dell'italiano, di fatto che è più antico, più antico. Il che ha treze bancai e parlare in dritto è una grammatica, a salevra che fa l'italiano. E con poi in tutte le lingue, il Veneto l'incombe ai parlanti, proprio così, ai parlanti che si lo dice, per stabilire un'interazione con la società che vive. E non è che la lingua l'incombe all'estato, o non è neanche dei gruppi politici, o folcloristi, no? Dunque, cosa si dice? Che la lingua è un strumento del popolo, e vogliamo dire che, anche se c'è delle norme grammaticale, che le governa la lingua, come sappiamo noi altri, ogni parlante si spiuma fuori una forma espressiva, una forma espressiva che è stata data in Pialù, ed è sbloccando fuori quello che chiamiamo del discorso. Il discorso si è governato dalle regole più grandi e socialmente stabili. Se da no, ognuno di noi altri si tiraria su il suo proprio linguaio e la comunicazione la sarebbe impossibile, in pratica impossibile. In questo discorso accettiamo le variazioni linguistiche, non le esce la trasgressione alla lingua, ma anche la lingua la si viva e dinamica. In com'è? Qua usiamo di parlare della lingua veneta, vuol dire, nella struttura generale, che la guerra è il nostro modo di parlare delle sette province, in questo Veneto, e anche il modo di parlare veneto in Brasile. se capimole perché parliamo una una lingua. Anche se lo parleremo dei sinonimi linguistiche per dire le stesse cose, e lì abbiamo variazioni linguistiche, le vengono in tutte le lingue, in questo portoghese e in italiano, anche la d'avvio. Ti che ti vive là in questo Italia non c'è più buono di incordarti, ma sei più sicuro che il forestico fa a me e si incorda che non c'è solo che una lingua italiana, hai capito? Un po', le strutture che governano la lingua sono sempre le stesse. Se da no, ripeto, è necessario di capirmi e capirmi, e capisco. Infatti, è possibile che si abbia dei diaetti di questa lingua qua, così come che si abbia dei diaetti portoghese, da noi, diaetti italiani da V. La parquia che la decodifica delle lingue in tel cao passato, è una cosa importante per preservare le lingue, per capirle bene e per insegnarle, per insegnarle, marcatamente per insegnarle. Sabiamo che, intanto che i decodifichia le altre lingue, l'opera del Veneto viene a essere bloccato, proprio, sostituito dall'italiano, toscano, no? Ancora, la lingua veneta è bella che sta decodificata. E se non riuscite così, alla grafia ufficiale della lingua veneta, disponibile anche sul sito, il sito web della regione del Veneto. Stai attenti, la grafia, la grafia, la giuncòdese, la giuncòdese, non è una copia che la vadrio dei testi antichi, per esempio, la grafia portoghese, la grafia portoghese è una ragazza di diverse riforme dell'anno 60, anche una che è più recente dal 2010. Dunque, la lingua scritta portoghese del cao del secolo passato è ben poco compagna della scritta dei didi ancoi, non capisco? E anche qui è una lingua parlata di un cuore, non capisco? Non capisco? Non capisco? I grammatiche non guardano i miei testi del 1700-1600 e del medioevo per fare una grafia per la gente di un cuore. E sarebbe ridicolo e senza attività. Ti, ti rompito il caro, il cavallo per muoverti in te la strada o ti rompito un'auto? Proprio così. Questo qua è il discorso che è dato da più. Dunque, fino al 1940 la gran parte della nazione occidentale e anche l'Italia aveva un naso di un alfabetismo dell'80%, 80%. Solo un grado di dirvi che non c'era scuola per tutti, non c'era scuola per tutti, la scuola era una istituzione sarata, sarata, assolutamente sarata. Le antiche idee ormai da letterà dei poeti, le era fatte per letterà dei poeti, che è più e più. Non parla il popolo o credio che Dante l'aveva scrivendo per il popolo d'Italia capirlo. No, 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 l'aveva scrivendo per i suoi compagni e con gli autori in lingua veneta che hanno fatto la stessa cosa. In altre parole, queste vecchie idee non le serve, non le capiscono a livello linguistico, non le capiscono. Ecco perché le grafie le ciappe continua e riforme proprio, come il portoghese per fare la lingua più orizionale dei testi antichi, ma per farla più adattare alla realtà dei parlanti e dei diancoi. E per finire, un altro pensiero di sbagliare, lei ha paura di una grafie ufficiale per la lingua veneta perché senza sapere niente, niente, proprio niente, gli crede che sia più un modo di parlare che non sia mia quella di loro. A estra pe. A estra pe. La grafie ufficiale veneta non la ti dice come che ti tocca parlarti, ma la rappresenta solo il tuo modo di parlare, il tuo modo di parlare e scrivendo e la fa che tutti gli altri possano capirti anche in te scrittura e non solo che in te ha parlato, no? Non solo che in te ha parlato, una lingua che la resta solo con una tradizione orale la si svampi subito, la si svampi ma tanto, tanto, tanto è svelto. Che fa il vino fuori anche col Veneto, assai smicciare anche con gli italiani, anche con il portoghese che guardano altri, occhio, 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 occhio. Dunque, alla tua capire mei roba, anche lavorare e indagare una cosa che si pie, più grande è anche sormontare i pensieri, che non capiscono la capacità di conduzire a livello della società reale. Va bene, va bene, va bene, grazie, grazie tanto che si quadri guarda questo video. Vedi mando metti il mio piace, se iscrivi sul canale, se non ti si mi è iscrivisto. E beh, non adesso faccio un fiazzetto di saco in portoghese per spiegare cosa che ho detto fin adesso. Então, pessoal, stavo falando sobre la grafia ufficiale della lingua veneta, sobre la lingua veneta, che la lingua veneta non è un dialetto perché ha una struttura propria, se separò, teve una evoluzione propria del italiano, il italiano viene del toscano, la lingua veneta è lingua veneta, surgiram in regiões differenti e una cosa non ha niente a ver con la altra. E, ovviamente, a gente precisa, è importante a gente respeitar una grafia ufficiale e non scrivere di qualche modo, la grafia ufficiale è importante perché la rappresenta fielmente quello che a gente dice, e di un modo che tutto il mondo consegue entendere. Perché, se non, se a gente fica inventando grafias aleatòrias, a lingua non se sustenta, a lingua non se preserva, a gente continua solo con una tradizione oral della lingua, come se fossero i nostri indigeni, e la maggior parte delle lingue se perde, per tradizione oral. Perché se influencia solo con una tradizione oral, senza una grafia ufficiale che tutti scrivano del mismo modo, ma che ha elementi che representano le cose che stanno dicendo di modi differenti. Perché, al passare del momento in cui un falante escreve con la sua propria ortografia e o outro escreve con la sua propria ortografia, con i seus acentos malucos, che gli acha che teni che colocare, as persone acabano tendo, diciamo, una specie di repulsa per se comunicar per la scritta, perché uno non entende l'altro. Quindi, solo fica quella lingua per tradizione oral, e che niente se entende direito escrevendo, ma se entende na fala, na fala se entende. E' por isso che a grafia ufficiale foi feita per a gente se entender também na grafia, e ela è importante. E' questo qui è un assunto che precisiamo deixar ben claro, è lingua veneta, non è un dialetto, ovviamente a lingua veneta tem dialetos da lingua, ovviamente, come existono i dialetos del portoguese, existem i dialetos del portoguese, toda lingua ha il suo dialetto, o italiano anche oggi in dia ha il dialetto del italiano, per tutta l'Italia, che non ha niente a ver con lingua veneta, o veneto è altra cosa, ma è preciso ficar ciente che c'è una lingua, una lingua soberana, una lingua che sta acima, che conduz, enfim, questi dialetos vengono, e che a gente sempre precisa, è importante studi-lo, 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 che il veneto già sta decodificato, così come fu il portoguese, italiano, francese, è importante a gente respeitar questo, di essere la conoscenza, di instruzione, questa conoscenza institucional, di fare con che la nostra lingua sorabbareviva, e di un modo formal, di un modo padrone, per tutti, perché ci facilita anche la educazione della lingua. Ok? Curtam aí o vídeo, curtam o vídeo, compartilhem E também não se esqueçam de se inscrever no canal Porque tem sempre vídeo novo toda semana Tchau, tchau, strucom, stame bem tutti